Assessore, dopo le accensioni ufficiali oggi anche il centro di Oneglia si illumina con luminari speciali. Come Comune abbiamo accolto con molto piacere la proposta del Cib Nuovo Oneglia per illuminare la facciata della chiesa in Piazza Calvi proprio a tema natalizio. Riteniamo che sia una cosa molto bella, una collaborazione che renderà Imperia in questo periodo natalizio ancora più magica. Il Cib Nuovo Oneglia, il Presidente Andrea Berselli, tutto il direttivo e tutti i 90 commercianti del centro storico ringraziano il Sindaco Claudio Scaiola, l'amministrazione e l'assessore Esther D'Agostino per averci permesso di abbellire la porta orientale di Imperia qua in Piazza Olisse Calvi sulla chiesa della Santissima Annunziata. Ringraziamo anche Riviera 24 per l'appoggio e l'organizzazione di tutti gli eventi natalizi che avverrà nel centro storico e tutti i commercianti vi aspettano per festeggiare questo Santo Natale speciale e ricco di gioia. L'idea di ricreare un po' il clima natalizio, il clima di festa in questi giorni che precedono il Natale, l'idea di installare il proiettore delle luci da Piazza Calvi e poi ci saranno altri eventi. Le luci di Piazza Calvi nascono da un'iniziativa del Cib di Nuovo Oneglia col patrocinio del Comune di Imperia e permesso dalla parrocchia di San Giovanni grazie a Don Alessandro Ferroa che ci ha dato permesso. Abbiamo pensato di illuminare la facciata della chiesa dell'Annunziata qui in Piazza Calvi perché è la porta della città, la pratica al centro storico inizia da qui e quindi abbiamo pensato di iniziare la festa con una bella illuminazione. Grazie a tutti.